Un'offerta pubblica iniziale IPO si riferisce al processo di offerta di azioni di una società privata al pubblico in una nuova emissione di azioni. Un IPO consente a una società di ad esempio andare a raccogliere capitali da investitori pubblici. Il passaggio da una società privata a una società pubblica può essere un momento molto importante per gli investitori privati per realizzare pienamente i guadagni del loro investimento poiché in genere include un sovrapprezzo. Nel frattempo consente anche agli investitori pubblici di partecipare all'offerta. Stanno tra l'altro arrivando sul mercato IPO molto interessanti come ad esempio quella di TikTok, di Reddit ma anche di Starlink l'azienda di Elon Musk. Le IPO offrono alle aziende opportunità di ottenere capitali offrendo azioni attraverso il mercato primario. Tutto questo per noi investitori comporta dei rischi e dei vantaggi. Oggi ti voglio andare a parlare delle IPO e del modo che potrei valutare se dovessi andare a investirci personalmente ma te ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale io sono Pasquale e questo è Io risparmio il canale del vostro amichevole risparmiatore di investitore della porta accanto. Oggi come anticipavo andiamo a parlare un po' di un argomento che è estremamente complesso ma allo stesso tempo devo dire estremamente accattivante. IPO può voler dire enormi guadagni o cospicue perdite. Si tratta di un mondo per gli investitori retail come me estremamente complesso ma a volte poco rimunerativi perché i retail come me e come voi come molti di voi sono solitamente legati al mercato secondario. Oggi ti vado a illustrare come funzionano veramente le IPO e come penso si possa investire passando direttamente dal mercato primario con tutti i pregi e tutti i difetti connessi. Cos'è letteralmente un IPO? Un IPO può essere vista come una strategia di uscita per i fondatori di un'azienda o degli investitori diciamo quelli delle origini che vogliono massimizzare il profitto del primo investimento. Prima di un IPO un'azienda è considerata privata, limited company come si definisce in inglese. In quanto società privata pre IPO l'attività è cresciuta con un numero relativamente piccolo di azionisti inclusi come dicevo prima i primi investitori come ad esempio i fondatori, i familiari, gli amici o comunque quei piccoli professionali professionisti come venture capitalist, angel investor o BDC di piccole entità. Per cui un IPO è un grande passo per un'azienda in quanto fornisce appunto all'azienda stessa l'accesso alla raccolta di capitali e fondi molto ma molto importanti. Questo dà all'azienda una maggiore capacità sia di crescere che di investire per cui di espandersi. La maggiore trasparenza e la credibilità della quotazione nazionale possono anche essere un fattore per aiutare a ottenere condizioni migliori per esempio quando si vanno a cercare dei fondi come prestiti. Quando un'azienda raggiunge una fase del suo processo di crescita in cui ritiene di essere per esempio sufficientemente matura per i rigori diciamo delle normative insieme ai vantaggi e le responsabilità per gli azionisti pubblici inizierà quel processo in cui si va a pubblicizzare un interesse di andare a quotarsi in borsa. In genere questa fase di crescita si verifica quando un'azienda ha raggiunto una valutazione piuttosto ampia che nel panorama degli Stati Uniti dell'America, nel mercato americano che è quello un po' più ampio, va a diciamo essere su intorno al miliardo di dollari. Nota come il cosiddetto status unicorn negli Stati Uniti d'America, tuttavia anche le società private con valutazioni diverse magari molto più basse e fondamentali più solidi e con un comprovato potenziale di redditività possono qualificarsi per un IPO a secondo della concorrenza di mercato e della loro capacità di soddisfare i requisiti di prima quotazione. Le azioni di un IPO di una società sono prezzate attraverso la due diligence di sottoscrizione. Quando una società diventa pubblica l'azionato privato precedentemente posseduto si converte in proprietà pubblica e le azioni degli azionisti privati esistenti valgono il prezzo di scambio sul mercato pubblico. Nel frattempo il mercato pubblico offre un'enorme opportunità per migliori di investitori di acquistare azioni della società e andare a contribuirne con un patrimonio successivo un aumento appunto del patrimonio della società. Il pubblico è costituito da qualsiasi investitore individuale o istituzionale che è interessato a investire in quel determinato business. Nel complesso il numero di azioni vendute dalla società e il prezzo per cui le azioni vendono sono i fattori che vanno a generare il nuovo valore del patrimonio netto della società. Il patrimonio netto rappresenta ancora le azioni possedute dagli investitori quando sia privato che pubblico ma con una IPO il patrimonio netto aumenta in modo significativo con la liquidità che viene reperita nella emissione primaria appunto delle regular share delle azioni in generale. Un IPO è composta complessivamente da due parti principali la prima è la cosiddetta fase di pre marketing dell'offerta mentre la seconda è l'offerta stessa l'offerta pubblica iniziale stessa. Quando una società interessata a un IPO fa pubblicità ai sottoscrittori sollecitando offerte private o può anche fare una dichiarazione pubblica per andare a generare interesse generico. I sottoscrittori a quel punto guidano il processo di IPO e sono scelti dalla società. Una società può scegliere uno o più sottoscrittori per gestire in modo collaborativo diverse parti del processo dell'IPO. I sottoscrittori sono coinvolti in ogni aspetto della due diligence dell'IPO nella preparazione dei documenti per esempio nella loro archiviazione nel marketing e alla fine nell'emissione. L'obiettivo principale di un IPO è raccogliere capitali per un'impresa per farla diventare più grande più forte sul mercato. Inoltre una ulteriore parziale riduzione dei rischi deriva dalla riduzione trimestrale richiesta. Di solito può aiutare un'azienda a ricevere condizioni di prestito di credito più favorevoli rispetto a un'azienda normalmente privata. Ma il problema è qui che noi poveri e piccoli investitori siamo legati al mercato secondario quando i giochi sono già fatti giusto? Ni in realtà perché qui entra in gioco la modalità che accennavo all'inizio e cioè la piattaforma Freedom24. Freedom Finance Europe Limited è la filiale europea di Freedom Holding Corporation che è un'azienda quotata al Nasdaq con una market cap di circa 3 miliardi di dollari. È una piattaforma estremamente regolamentata ed in particolare negli Stati Uniti dalla SEC e ne lo è dalla Bafin tedesca e dalla CSEC cipriota. Si tratta dell'unico broker con sede nell'Unione Europea quotato al Nasdaq che permette agli investitori, al dettaglio noi poveri, di andare a partecipare alle IPO di grandi aziende come citavo prima ad esempio Starlink, TikTok o Reddit. È un'azienda che è iniziata nel 2008 con l'IPO di Facebook e Freedom Finance ha già offerto i suoi 350.000 clienti che sono sparsi in tutto il globo partecipazione a 249 IPO attraverso la propria piattaforma online includendo anche 40.000 azioni commerciali, 1.200 ETF e 147.000 obbligazioni sulle maggiori borse in Europa, Asia e USA per cui non sono solo IPO su Freedom24 ma è un normale broker anche per investire in azioni normali. Gli utenti di Freedom24 Finance hanno accesso a più mercati di tutto il mondo attraverso la loro piattaforma di trading che è appunto Freedom24 disponibile su desktop e dispositivi mobili. Come app multipiattaforma per iniziare a fare trading i clienti possono scegliere uno di diversi piani che si adattano al proprio stile di investimento di trading o dei loro obiettivi. Ognuno dei piani fornisce varie opzioni per diminuire i costi di trading. Dopo la registrazione i nuovi utenti possono beneficiare del piano promo gratuito che permette di fare trading gratis per i primi 30 giorni. Oltre a trading azionario Freedom24 offre l'esclusiva opportunità come citavo prima di investire in ITO per i privati precedentemente accessibile solo ed esclusivamente a investitori aziendali e istituzionali. Ti devo però assolutamente ricordare che gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre rischio di perdita di capitale e l'investimento in ITO può comportare ulteriori restrizioni. Le previsioni o le performance passate non sono assolutamente garanzia dei risultati futuri. I rischi delle IPO di cui stiamo parlando in questo video vengono in parte calmerati dal fatto che gli analisti di Freedom Finance studiano attentamente i mercati, gli indicatori e tutte quello che sono le cose connesse alle IPO. Bisogna però tenere in considerazione che anche se non ci sono rendimenti garantiti in nessun investimento storicamente la crescita media del prezzo durante il lock up è del 62%. Se vuoi provare questa piattaforma ti lascio il link qui sotto in descrizione del sito ufficiale dove puoi andare a valutare tutte le dinamiche coinvolte, i costi, le varie tipologie di account e le procedure di due diligence di Freedom24 e tutte le altre importanti informazioni di cui tu possa necessitare nel caso ti volessi affacciare al mondo delle IPO. Questa tipologia di approccio come accennavo prima può portare sia vantaggi sia svantaggi e vediamone alcuni. Uno dei vantaggi di investire in IPO è che l'azienda ha accesso ad investimenti dell'intero pubblico investitore per raccogliere i capitali. Ciò facilita le operazioni di acquisizione, con versioni di condivisione e aumenta l'esposizione e il prestigio e l'immagine pubblica dell'azienda il che può aiutare le vendite e i profitti dell'azienda. È un'azienda quando passa da privata a pubblico, passa dall'IPO, aumenta tutte queste cose. Il mercato è ampissimo con i retail, le aziende, i promotori, gli istituzionali. Un secondo vantaggio è che la trasparenza proviene dalla pubblicazione delle cosiddette trimestrali. Quando erano private queste aziende non dovevano assolutamente presentare trimestrali, invece una qualsiasi azienda quotata in borsa ha degli obblighi verso i propri azionisti. Ovviamente ci sono degli svantaggi delle IPO e possono essere diversi. Alcuni dei principali svantaggi includono il fatto che le IPO sono costose e per cui i costi di mantenimento di una società pubblica sono esosi e di solito non sono correlati agli alti costi di fare affari. Inoltre le fruttuazioni del prezzo delle azioni di una società possono essere una distrazione sia per chi investe, come me, ma soprattutto e anche per gli investitori di prima data, i fondatori, che possono valutare i riferimenti della base del prezzo come i risultati reali dell'azienda, quando in realtà non è così. Un secondo svantaggio potrebbe essere di tipo competitivo, visto che le società che sono quotate sono tenute a divulgare informazioni finanziarie, contabili, fiscali ed altre informazioni di tipo commerciale. Durante queste rivelazioni potrebbero dover saltare fuori pubblicamente dei segreti o dei metodi commerciali che potrebbero aiutare i concorrenti. Un'azienda privata invece non incorda in questo rischio. Un terzo svantaggio sono proprio gli investitori che guardano solitamente i titoli dalle notizie, ma la principale fonte di informazione dovrebbe essere invece il prospetto, che è disponibile non appena la società presenta la sua registrazione. Il prospetto va a fondire molte informazioni utili, per cui gli investitori tutti che vogliono investire in IPO dovrebbero prestare particolare attenzione al team di gestione e ai loro commenti, nonché alla qualità di quelli che sono i sottoscrittori o delle specifiche operazioni. Le IPO di successo saranno generalmente sopportate da grandi banchi di investimenti che possono promuovere bene una nuova emissione. Le IPO tendono a raccogliere molta attenzione da parte dei media, alcune delle quali sono deliberatamente coltivate dalla società che diventa pubblica o che andrà a diventare pubblica con l'IPO. In generale le IPO sono molto popolari tra gli investitori perché tendono a produrre movimenti di prezzo molto volatili il giorno stesso dell'IPO e magari poco dopo, nei primi giorni successivi. Questo può occasionalmente produrre grandi, enormi guadagni, sebbene possa anche produrre grandi ed enormi perdite. Ed è proprio per questo motivo che a premium utilizzare una piattaforma specializzata come citavo prima, Freedom24, può essere un ottimo modo per scremare inizialmente le IPO importanti e con potenziali, ma ovviamente questo comunque non dà rendimenti garantiti o progressi futuri da quelli che possono essere prevalentemente spazzatura. Una scrematura fatta da un team esperto di questo mercato può ridurre notevolmente gli sforzi per chi voglia andare a valutare le IPO facendo un'enorme parte del lavoro iniziale. Bene, spero che questo video sulle IPO sia stato di interesse. Le IPO portano dei rischi correlati molto importanti ma allo stesso tempo, a parità di rischi, possono portare anche dei notevoli risultati, il famoso rapporto rischio-rendimento. Ti ricordo che questi non sono assolutamente consigli di investimento ma mie semplici considerazioni sia sull'IPO che sulla piattaforma Freedom24. Si tratta comunque di un mondo che ha delle dinamiche valutative più complesse che vanno secondo me approfondite molto più a fondo rispetto a quello che è l'analisi di un'azienda magari quotata da diversi anni. Ti prego di farmi sapere cosa ne pensi nella sezione dei commenti qui sotto e se trovi questo mondo affascinante come lo è per me. Ti chiedo più a questo punto per cui di darmi degli spunti di riflessione da condividere con un po' tutta la community. Ti ricordo che il link di Freedom24 per poterlo valutare sta qui sotto in descrizione e se lo contenuto è stato il tuo gradimento ti chiedo come sempre la cortesia di farmelo capire con un bel pollicione in su, anche due se vuoi, così fai felice l'argomento di YouTube ma soprattutto fai tanto tanto per me perché aiuti questo canale a crescere. Se poi sei nuovo su questo canale e non vuoi perderti nessun nuovo contenuto successivo pubblicato successivamente a questo ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così non mi vedrai solo oggi ma anche ogni giorno da lunedì a Verdi da oggi in poi. Bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo un prossimo video, ciao!